Voi rimanete qui collegati con noi perché alla fine No, signore, lei dovrà... l'uscita è di là, prego Grazie, l'ha uscita Interruzioni pomali Tutte perichiamo Quindi, dicevamo, dopo le interruzioni pomali Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul nuovo TG di Sofì Sì, ho fatto anche la rima perché sono una breve giornalista Allora, prima di vedere il video, quindi di passare la linea a Sofì gioca con me Facciamo un piccolo TG per preannunciare le cose Ma prima iscrivetevi e mettete like, ovviamente non al TG ma al canale Una cosa importantissima, mi raccomando, prendete il bloc note Se come le professoresse annotate tutto quanto Ovvero, Sofì ogni sabato sarà su Mega Wow con il simpaticissimo potere dell'unicorno No, senza il potere dell'unicorno con Happy Veniamo al dunque La notizia di oggi è che a Sofì è arrivato un bellissimo pacco con dentro delle cose stupende Quindi adesso andiamo subito a vedere che cosa ha aperto Voi rimanete qui collegati con noi perché alla fine No, signore lei dovrà, l'uscita è di là, prego Grazie, l'ha uscito Interruzioni pomali Tutte merica Quindi dicevamo dopo le interruzioni pomali Rimanete qui collegati fino alla fine perché poi vi darò un'ulteriore sorpresa Sì, anche lei è venuta perché voglio ascoltare tutto quanto Tu ma te ne vai per favore Sare è tornata La star del cinema, dai fai una parte di Romeo Giulietta Quello è dietro del gatto Abbassa la coda Gatto? Sì Quindi adesso passiamo la linea a Sofì gioca con me Quindi Genia dentro Perché sono una genia dentro Perché sono, sono, sono una genia dentro Eh, il problema è che sono dentro Quindi grazie mille Sofì dello studio Per la linea Facciamo arrivare il bellissimo pacco che ha già annunciato Sofì dello studio Adesso scartucciamento nucleare Ah Sofì, per chi non ti seguisse ti possono trovare anche su TikTok Sofì si diletta a fare i balletti Ok ragazzi, io ringrazio tantissimo Giochi Preziosi per questo bellissimo regalo Quindi adesso facciamola arrivare Sei pronta? Sì Dai 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 Questa ce l'ha anche me contro te È bellissimo Allora Sofì Fluffy, Fluffy, Fluffy Questa è una nanana surprise Gigante Ultimate surprise Leggermente più grandina Mi sembra un pochino più grande Non lo so, vediamo un po' dietro quelli normali Quanto sono grandi Prendi un po' quello che gli assomiglia Allora, vediamo Chi gli assomiglia? Lei gli assomiglia un po' Lei gli assomiglia No, ma volevo che tu prendessi l'animalino La borsettina dell'animalino Ah, la borsettina dell'animalino Quello lì nera Eccolo da Eh sì, credo sia leggermente Leggermente più grande È il fratello maggiore Mamma, ma ci posso fare la nanna stasera? Sì Sì, la nanna con quel tuo cuoio Non lo apri tre Non trova da dove inizia? No, me lo apro da Me lo apro da solo Guai se lo toco io Che cosa ti devo fare allora? È il suo mio questo Dai a fare la carta intorno Su Adesso gliela toco Qui c'è la zippotta Ok Zicchete Zaccete 3, 2, 1 Allora, togliamo le istruzioni Via brutta istruzioni Guarda che cannuzza super specialissima Ai 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 Io prevedo, Sofì Del divertimento per la bimba Ok ragazzi Cannuzza super dorata Estratta Adesso prendiamo Ciao Quel palloncino Mi sa che diventerà davvero davvero gigante E la cosa bella è che è venuta la signora a pulire ora stamattina Non fa niente dai Gonfia bene Aiuto Basta Sofì, basta Faccio il botto In su però 3 In su, in su mi raccomando Sto qui 1 Svom Sono enormi Svom apri 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 Eh ma tutto quel disastro là 3, 2, 1 S'è sconfiato S'è sconfiato Vediamo cosa c'è dentro Dai dai Che siamo curiose Wow Miliardi e miliardi di bustine e bustine Contro bustine e contro bustine Allora Dividiamo grandi e piccoli Ma dove parti? Da questo piccino E questo piccino Contiene Un rotolino La gongnellina Credo sia la gongnellina Io credo che sia molto molto carina Vacci un po' a vedere Sofì Gongnellina Ed è enorme Aspetta Aspetta Ma 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 Normale Non è nemmeno tanto grande Però questa È una taglia più grande Mi sa che questa È un filino più alta E ha una taglia di vestiti più grande Questo è il primo indizio Poi Numero 2 Vediamo Un altro vestito Vediamo Ah 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 Sofì ha capito come andava il vestito Un vestitino 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 Poi cosa abbiamo Bustina numero 3 Magliettina Una magliettina coniglietta Busta numero Non mi son persa Vai avanti Tranquilla Si scarta Si scarta Un'altra cosa Il giacchetto di pelle Qui siamo So cool Giacchettino di pelle Si sta già facendo una fila di vestiti Sofì Ti vorrei dire No Questo è bellissimo Questo è fluffy Questo è fluffy Ed è una bellissima Felpona Pijamona Quello che è Una felpona conigliona rock and roll Bellissima Ultima busta Eh no c'è sempre quella grande Oh due 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 buste Le ultime due buste Allora Che cosa è Questa cosa qui è pelosetta Questo Cos'è questa cosa Il cappello Oh oh No ma non te lo mettere te Dai faccelo vedere Ha le orecchie lunghe Ok Poi abbiamo L'ultima cosa Grandissima Sofì per adesso Il suo stile ci sta piacendo Si Aspettino Perché Perché Ah Perché Come tutti Hanno il laccetto Per portarla Anche questo È il laccetto Per portarla E dopo proveremo a metterglielo Per trasportarlo Ed è un filino Grande Eh vabbè Sembra giusto Quindi adesso mettiamo i vestitini da una parte Giriamo la nostra confezione Ritiriamo su Togliamo il primo strato Ecco Prima bustina Seconda bustina Ancora più piene Qui c'è la dolla Ma la vediamo dopo Sono d'accordo con te Se niente subito E No 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 Piano Piano Sei pronta? Ah Sono mai visto? Piccini questi Sono più Cosa ci sarà qua dentro? Non ci sarà Ha ancora bustine Oh oh Tacchi 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 Attenzione La nostra nana surprise avrà le vertigini da quanto starà in alto Poi Tacchi 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 No Sofì Questi non sono tacchi Questi sono Girali un po' verso di noi Scarponi Come i tuoi anfibi Solo a coniglietto Aspetta Gli anfibi coniglietti Hello friends Cosa c'è ancora rimasto da dire? La spazzolina Ok Tacchi No voglio vedere dietro le orecchiette Gira le rovescio Guarda quel carino Orecchiette Ci sono ancora scarpe? Aspettate Sofì Cos'è Fluffy? Questa Cos'è quel coniglietto lì? Sembra la ciabatta No Le ciabatte Fluffy Con tocca Allora facciamo vedere Le ciabatte Fluffy Che piacciono tanto a Sofì Eccole qua L'ultima busta è Oh oh Così sì Che sei Al top Ce l'abbiamo fatta Accardare tutto Ma adesso Teniamo lei Three Two One Go Ma è meravigliosa Ho fatto di tutto Ma è meravigliosa Ma è grande Sofì È enorme Dai liberiamola Che la vogliamo vedere Sono un po' trash Sono un po' punk Ma infine Sono una brava ragazza E sei bella Ed ecco qui La nostra Bellissima Na 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 Surprise Sofì Sofì gentilmente Gli sposteresti I capelli da davanti Perché c'ha così tanti capelli Che sennò Non riusciamo a vederla Quanto è bella Ciao Io mi chiamo Come mi chiamo Si chiama Alex Hart Alex Hart Ed ecco qua Alex Hart Non gli ho dato il nome io Cioè È il suo vero nome Ma adesso glielo cambiamo Perché Alex Hart È un nome da maschio Scusate Sofì c'ha le sue idee Eccola qua ragazzi Guardate che bella La nostra Miravigliosa Alexa Alexa Non Alexa Alexa Oh oh C'ha le mutandine Con i conigli Le cazze Le mutandine E tutto quanto Ma Non posso Vabbè Sofì Non sono tanto Non sono presentabile Perché ecco il primo Completo di Alexa Il completo Da giorno Con il Normale completo Con cui esce Va a fare la spesa Va a fare il shopping Ma hanno messo gli anfibi Secondo look E con questo La mandiamo a nanna Ah Sofì gli piace un sacco La filpona lunga Guardate che bella E Siamo Boniglietti Molto belli Siamo punk Siamo trash Ma infine Siamo Belle ciabatte Temo che le ciabatte Coniglietti piaceranno Molto a Sofì Ma prima di andare a letto Ci si pettina i capelli Ecco fatto Così E poi Passiamo al vestito Numero 3 Ed ecco il terzo look E nel terzo look Troviamo il vestito Da sera Con occhiali Allora Vediamo un po' Occhiali Na 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 Surprise Un vestitino Meraviglioso Le calzette E Sofì E ai piedi Ragazzi Noi vi abbiamo fatto vedere Tre look Ma voi vi potete Sbizzarrire Con i nomi Con le combinazioni Potete fare Tutti i mix Che volete Vero Alexa Sì Mi potete chiamare Come vi pare Senti Alexa Anche te Sofì dello studio Ci sta chiamando Meglio passare la linea Passo la linea A Sofì dello studio Ciao Eccoci qua Bentornati In studio Adesso che Sofì Ha fatto questo Meraviglioso Unboxing Veniamo dunque Sofì Riuscirà A trasformarsi In una Na 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 Surprise Chi lo sa Passiamo la linea A Sofì E ci proverà Sofì Passiamo la linea Via Ed ecco qui La Sofì Na 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 Surprise Ultimate Surprise Get it now Flushy fun So soft touch Pop Unbox So much stuff Green butter kitty Bunny cute Unzip confetti Fashions too So many loves Wings and match Fashion surprises Like that Hyper river Meow Addy's heart Adore her Wow I'm taller now Na 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 Surprise Ultimate Surprise With limited edition Double each So separate Che dite ragazzi Posso fare La na 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 Solo che Mi ci vorrebbe Una confezione Un po' troppo grande Quindi ragazzi Da qui passo La linea Sofì dello studio E ciao Spero vi sia piaciuta E dallo studio Ragazzi È tutto Io vi ricordo Di mettere like E di iscrivervi E di seguirci Anche su Instagram Ciao Dallo studio È tutto Regia Stacca la linea Ciao 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 Ciao